La seguente testimonianza è tratta dal libro di Stefano Campanella intitolato I tre misteri della morte di Padre Pio alle pagine 162 e 163. Ecco cosa racconta l'autore del libro. La seguente testimonianza di Frate Eusebio Notte da Castelpetroso ci fa capire fino a quale livello di eroismo giungesse la carità di Padre Pio. Ecco cosa racconta Frate Eusebio. Un pomeriggio d'estate eravamo sulla veranda per un po' d'aria fresca. Il improvvisamente si presenta un confratello che tutti sapevamo era un po' esorito e scompostamente si butta ai piedi di Padre Pio gridando padre spirituale mio mi aiuti questa testa mi fa male e non mi aiuta più. Ci saremmo aspettati una risposta del caso coraggio ti benedico e pregherò per te. Quel giorno invece Padre Pio diede una risposta strana e sconcertante. Figlio mio mi hai preso in un momento in cui non ho neppure una parte del mio corpo libera da offrire al Signore per te ma ti assicuro che la prima che si libererà sarà per te. Padre Pio si donava tutto a tutti senza riserve fino allo stremo delle forze. Era questa la sua missione. Con queste parole commenta la testimonianza l'autore del libro. Grazie per aver ascoltato questo video e alla prossima.